Si è seduto comodamente al ristorante, ha mangiato di tutto e poi si è alzato per andare via rifiutandosi di pagare. Così l'uomo di 58 anni del Nisseno, a distanza di circa 15 giorni dall'ultima volta, ha colpito ancora. L'episodio si è verificato in un ristorante in via Chiarandà, dove il proprietario ha chiamato la polizia che tempestivamente è arrivata sul posto. In questo caso però il titolare del locale, mosso a compassione, avrebbe deciso di non denunciare e regalare il pasto all'uomo. Poco più di dieci giorni fa, il 14 gennaio, sempre lo stesso 58enne aveva cenato in un altro locale comportandosi allo stesso modo. Sembrerebbe che l'uomo sia in difficoltà economica e senza una fissa dimora.